e ancora si apre la difesa della Juventus a Rizzitelli la pallita dal Torino ma la Juventus concede ancora una chance clamorosa ai Granati secondo il mio punto di vista è molto impeccabile la direzione di Amendolia la Juventus per quanto riguarda invece Sonetti incita Rizzitelli Grazie Mino, altro calcio di punizione in favore del Torino Sandwich